ariete giornata lenta caro ariete seppur in ottima forma fisica oggi cuore lavoro non ti aiutano a mantenere la calma toro al lavoro tutto nella norma con grande regolarità in amore oggi sarà in vena di conquiste e corteggiamenti gemelli marte belligerante ti regalerà la giusta dose di nervosismo che normalmente ti porta a metterti sulle difensive e ad essere facilmente irritabile cancro giove ti vuole tutto concentrato sulla tua vena affettiva al di là di qualsiasi impegno lavorativo al centro dei tuoi pensieri ci saranno gli affetti leone sei un sognatore un romantico un passionale un entusiasta e questo martedì sarà l'esaltazione di tutto questo sarà una giornata pazzesca vergine arriverai al lavoro e sentirai nell'aria odore di buone notizie la conferma che aspettavi da tempo è arrivata bilancia molto probabilmente per lavoro dovrai fare la valigia e partire sei entusiasta per questo anche perché ti aiuterà a non pensare ai problemi scorpione giornata lavorativa nella norma calma con il partner pungente con chi prova a contraddirti meglio averti come amico che non il contrario sagittario verso fine giornata ad un iniziale grintosa reazione seguirà una sorta di resa agli eventi forse sarà solo stanchezza e voglia di tornare a casa capricorno sono giorni di lavoro intenso e senza sosta e come se non bastasse ci si mettono le festività che ti stancheranno non poco in serata avrai bisogno di tante ma tante coccole acquario finalmente arriverà non a caso l'approvazione di un progetto importante per la tua crescita professionale pesci venere ti vuole innamorato più che mai per i singolo oggi c'è voglia d'amore ma la timidezza tipica dei pesci potrebbe essere un freno per i nuovi possibili incontri